Responsabilità Oggi voglio leggervi il significato della parola responsabilità. Il termine responsabilità deriva dal latino responsus, cioè, in un significato filosofico generale, impegnarsi a rispondere a qualcuno o a se stessi delle proprie azioni e delle conseguenze che ne derivano. Scorsa settimana abbiamo parlato tanto di quanto sia importante agire, di quanto sia importante continuare a fare azioni. Perché anche se in dei momenti ci sentiamo che non ci sono risultati, che non stanno avvenendo le cose, invece le cose stanno andando avanti. Di questo dobbiamo esserne veramente consapevoli. Perché è fondamentale in questo momento che ognuno di noi sia responsabile delle proprie azioni con costanza e determinazione. In questo modo le conseguenze delle nostre azioni saranno solo positive. Questa settimana partiamo con grande responsabilità, continuiamo con il nostro agire, facciamo una gran bella settimana. Io resto produttivo, noi restiamo produttivi. A presto.